...e cattiva di gestione, e di servire. E se lo stato lo è per il riso, per trovare Manos o il tuo rapido, ti attacchino in tre minuti. Manos o il tuo rapido, rapidità per il tuo reso. Manos, non parti per male dai cordoni di stato. Siamo, signor! Manos, non parti per male dai cordoni di stato. Manos, non parti per male dai cordoni di stato. Manos, non parti per male dai cordoni di stato. Manos, non parti per male dai cordoni di stato. Manos, non parti per male dai cordoni di partita, queste le patatine al wasabi le assaggiamo stasera il nuovo stick out di sud una domanda di soli che saranno messe a cura prova dal pregio di cittadini e di un attività con avvitamenti reali riconoscimenti alcuni in mario e di un attivo in un attivo in un attivo un attivo mi han distorato e di un attivo e di una copa di un attivo da sud di verona c'è una paticchieria che parte della storia di oggi E' un'altra parte. E' un'altra parte. E' un'altra parte. E' un'altra parte.